Il controllo del fuoco da parte dell'uomo ha comportato una serie di grandi vantaggi. Gli antropologi più che controllo del fuoco lo definiscono come domesticazione del fuoco, perché l'uomo è stato spinto nell'andare appunto a domesticare il fuoco per dei bisogni biologici, proprio per difendersi dai predatori, ma anche per difendersi dal freddo, per migliorare gli intensi di la caccia e quindi anche per renderli più duri bruciandoli, oppure per cuocere gli alimenti. Secondo Richard Rangham, che è appunto un primatologo e antropologo dell'Harvard University, con la cottura dei cibi, diciamo che la nostra dieta e lo sviluppo delle nostre ossa mascellari e anche del nostro intestino si sono modificati notevolmente. Di questo ne ho parlato in un video dedicato sul mio canale, la cottura dei cibi ci ha resi umani, è stata quella a renderci più umani? Se sei interessato ad approfondire questo argomento ti rimando proprio a questo video specifico che trovi nella mia playlist di antropologia medica e dentale. In linea di massima in questo video ti dirò che la cottura dei cibi, grazie alla domesticazione del fuoco, ha permesso di rendere i cibi più morbidi, più facili da masticare e con un contenuto energetico più utilizzabile, soprattutto per alimenti come le patate e la manioca. Infatti gli amidi una volta che vengono riscaldati sono appunto più digeribili, hanno più calorie pronte, richiedono meno masticazione e questo comporta di rimando degli adattamenti specifici come dei denti più piccoli e un organo masticatorio più piccolo. Infatti se andiamo ad osservare una conformazione arcaica diciamo di un nostro antenato, si osservano delle grandi aree di inserzione dei muscoli masticatori e delle robuste strutture osse a sostegno dei muscoli. C'è stata però con la cottura dei cibi una riduzione di tali strutture che ha permesso lo sviluppo di un grande cervello, quindi il tempo che l'uomo non spendeva più nel masticare gli ha permesso di sviluppare diciamo un grande cervello, anche se questa teoria non è completamente condivisa da tutti gli antropologi. Però qui abbiamo un esempio di come una innovazione culturale vada appunto a modificare il corpo umano. Sicuramente senza la cultura la selezione naturale avrebbe operato diversamente e l'uovo non avrebbe colonizzato ambienti estremi, dai deserti fino anche agli acciai. Altri antropologi propongono invece una teoria alternativa per la quale il cambio di dieta con alimenti di origine animale come carne, uova, fegato e midollo, osseo, ricchi di amminoacidi e lecitine abbiano permesso uno sviluppo notevole della massa cerebrale. Quindi queste diciamo che sono le due teorie maggiormente accreditate attualmente. La migrazione umana comunque si ha comportato adattamenti a nuovi habitat sia a livello genotipico sia a livello fenotipico che anche a livello culturale.